Sono tre i disegni di legge discussi nella sessione di lavori di febbraio del Consiglio Provinciale di Bolzano. Il primo del Gruppo Verde, arrivato in aula grazie al sostegno di tutte le minoranze al momento della definizione dell'ordine del giorno, introduceva la cancellazione di metà delle agevolazioni pubbliche ricevute per associazioni, unioni e sindacati che violano il divieto già esistente per soggetti che ricevono finanziamenti pubblici di fare propaganda elettorale nei 60 giorni prima delle elezioni. È stato respinto con 16 sì e 18 no alla richiesta dei proponenti di tutelare il libero mandato, la maggioranza replicato facendo appello ai diritti costituzionali di libertà di opinione e di associazione. Approvati invece i disegni di legge della Giunta, quello dell'assessore Schuller a tutela degli habitat acquatici e dell'esercizio sostenibile della pesca ha ottenuto 32 sì e 3 astensioni. Come riconosciuto anche dall'opposizione, introduce nel settore un nuovo approccio orientato a trasparenza e sostenibilità. Quello del Presidente Compaccia ratifica l'intesa tra regioni e province autonome per l'istituzionalizzazione della relativa conferenza, organo attivo da più di 40 anni, quale sede di confronto tra le regioni stesse e tra queste e i ministri. Alla proposta si è opposta la City Roller Freiheit, ritenendola lesiva per l'autonomia della provincia. Rinviato l'esame della proposta di obbligo di indicazione nella ristorazione della provenienza degli alimenti di origine animale. I proponenti della SVP hanno spiegato che si sta lavorando ad una nuova versione sostenuta dalla maggioranza. Nel corso della seduta sono stati approvati anche una mozione della SVP, confirmata dai Frei Heitlichen, per valutare l'utilizzo del fondo di rotazione per incentivare l'economia. Un voto di Partito Democratico, Liste Civiche e Movimento 5 Stelle a condanna delle violazioni dei diritti umani in Iran. Una mozione di perspettive Firsutti Roller per limitare la vendita dei masi chiusi ai non agricoltori.